Thomas Scalera, presidente della Bois Vairano, la Bois Vairano salva? Sì, già da qualche domenica, trovare le motivazioni quando già sei salvo da qualche settimana è importante vincere perché volevamo con tutte le forze conservare il settimo posto perché da neopromossa è sicuramente un bel risultato, siamo arrivati a una manciata di punti del playoff potevamo forse fare meglio ma come neopromossa siamo molto molto contenti Col senno del poi sempre si dice potevamo fare meglio comunque una partita che a un certo punto del match è stata ribaltata Sì, è stata ribaltata perché è classica partita di fine anno noi salvi, loro già consci che questa partita valeva per il piacere di giocare a calcio e quindi noi ci siamo un po' rilassati loro hanno buttato nel campo una bella reazione e sono andati in vantaggio poi fortunatamente un po' i cambi dei giocatori, un po' i cambi della panchina un po' il calo forse fisico che ha avuto il Trivento siamo riusciti a portare la posta piena a casa insomma sono abbastanza soddisfatto Thomas, mi dicevi la prima volta salvi se vogliamo fare un sunto di questo campionato Sunto del campionato, inizio difficile perché arrivare nella categoria della promozione un campionato sontuoso, stravinto l'anno scorso di prima categoria quando siamo arrivati in promozione ci siamo accorti che era un'altra storia quindi all'inizio siamo andati in grande difficoltà avevamo pochi punti ci siamo accorti anche di aver sbagliato forse qualche scelta dal punto di vista dei giocatori siamo dovuti correre ai ripari, a dicembre abbiamo riadrezzato la barca preso giocatori, cambiato altri giocatori abbiamo fatto quelle 6 o 7, 8 risultati utili consecutivi di cui 6 vittorie che ci hanno messo poi in una posizione tranquilla che abbiamo portato serenamente fino a fine del campionato diciamo che c'è anche un cambiamento di rotta che c'è stato a dicembre perché a un certo punto con la società, col mister che è molto bravo con i ragazzi abbiamo deciso di puntare sui giovani tanto è vero che abbiamo vinto la classifica di impiego, di minutaggio dei giovani insomma che è una bellissima cosa per noi Quindi possiamo dire che con l'anno nuovo, vita nuova e avete cominciato a crederci? Sì abbiamo cominciato a crederci perché poi c'erano squadre gettonate squadre che fanno da tanti anni questa categoria noi era il primo anno insomma ci siamo andati a confrontare con una realtà diversa con grande umiltà, forse all'inizio dell'anno non avevamo capito l'importanza di questa categoria a nostre spese con tanta amarezza abbiamo poi tratto una forza per portare in porto questa salvezza e per gettare le basi per qualcosa di buono anche l'anno prossimo Grazie 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 Grazie